Non devo postarlo su social o cose del genere, è solo per... perché se dovrei sporgere denuncia o cose del genere... Faccio vedere sul mio avvocato. Cosa? Sto riprendendo, perché non devo... sui social. A me sta riprendendo a me? Sì, e vorrei sapere il suo nome e vorrei anche sapere... vorrei anche vedere il foglio dove c'è scritto che è lei. Noi possiamo fare una cosa, lo fermiamo, fermiamo il tram, se la denuncia dà, chiamiamo la polizia, blocchiamo tutto e le faccio fare un verbo da lei, così siamo tutti contenti. Facciamo così. Allora, io intanto vorrei vedere dove c'è scritto che è lei. Io ho questo servizio da fare perché faccio pubblico servizio. Ma c'è scritto da qualche parte? Sì, io posso farlo. E intanto mi vuoi dire, come si chiama? Facciamo che blocchiamo il tram? Si ferma qua ora. Dico, lo blocchiamo, così faccio venire la polizia direttamente e lei parla con loro. Posso farlo pure, così lei si prende la responsabilità e prende il verbale. È una denuncia per pubblico servizio che lo sta bloccando. Ok, ma prima, intanto siccome me l'ha chiesto lei, vorrei sapere il suo nome? Il mio nome? Sì. Ma che faccio? Il mio nome è Fabrizio. Cogniamo? Cogniamo l'Orioli. Va bene, è il foglio... Cioè mi sta facendo tra le mie domande che non servono a scendere. Ma lei, aspetta, aspetta, aspetta. Andiamo, scendiamo la... Aspetta, se vuoi fare questo, lo blocchiamo, lo blocchiamo il tram. Allora, magari non c'è bisogno, capisco se mi faccio scendere, però il foglio in cui c'è scritto che lei può controllarlo ce l'ha, ce l'ha. Per favore, scendiamo. Lo posso vedere? Ti posso chiedere anche il documento suo, all'interno del mezzo. Ma io posso anche non averlo, il documento. Ma che mi soffro con il tram, chiamiamolo il polzello. E' passicurato. Scusi, è passicurato. Che mi fanno la multa? Lo facciamo? Che mi fanno... Intende che passo i guai in attesa che mi fanno la multa? Non c'è una grande denuncia perché lei può contrarre, però con un servizio pubblico. Scegliamo la persona fermata. Certo, è senza. Sì, mi fanno. Intanto il suo nome non lo può dire, il suo nome e il cognome. Ma lei, scusi, fa un servizio pubblico, perciò potrebbe dire il suo nome e il cognome. Ma io lo posso dire pure il mio nome e il cognome. Facciamo come dico io, che non blocchiamo il tram. Potrei scendere anche ora, non è un problema. No, scendere, non blocchiamo. Bloccarlo tutto? E se veramente vuole fare questa cosa solo per una ragazzina che non è green pass? Non è cosa di ragazzina. Vabbè, scendiamo. E io le sto chiedendo questo, non è ragazzina. Cioè, non è una cosa di ragazzino o meno. Sul tram adesso, come i mezzi pubblici, bisogna avere il green pass. Anche se comunque è una cosa anticostituzionale. Mario, non posso fare niente, è anticostituzionale. Perciò comunque non lo può fare vedere, dove c'è scritto che deve controllarlo. Perciò lei non ce l'ha, perciò lei non li potrebbe controllare. Venite con me, gente, in mente, va. E blocchiamo il tram e chiamiamo il conservo. Ok? Onestamente non penso che ci sia bisogno. No, non ti preoccupi, vieni a scendiamo, non ti preoccupi. Perché se comunque lei ha un foglio dove c'è scritto che può. Andiamo, per favore. Anche dico, c'è stato girato il video. Sì. Adesso lei scende. C'è una presa per in giro che sta facendo. Il video? Anche il video che fai? No, è perso. Perché non puoi possiamo scendere che mi sta venendo l'ansia. Vieni, andiamo. Mi gioco, non è. Va bene, va bene. Però comunque la prossima volta le consiglio. Se ci sarà qualcun altro che glielo chiederà, le consiglio di farglielo vedere. Perché lei fa brutta figura. Perché di vedere cosa? Il foglio dove c'è scritto che lei può controllare i green pass. Ma lei lo sa che c'è una regola che si deve salire sopra il tram con i mezzi pubblici con il green pass. Sì. E allora perché non ce l'ha? Perché non ce l'ha? Perché è anticostituzionale il green pass. Sì, ma questo non deve dirlo a me. Io sto facendo un lavoro. Eh, è un lavoro pubblico, giusto? Pubblico. Perciò mi potrebbe dire anche il nome e cognome. No, io lo posso dire il nome e cognome. Perché non me lo puoi dire? Perché lei lo dice solo. Sì, c'è, è piacere. Mi piacere. Vabbè, comunque, se deve scendere, scenda così. Vabbè. Facciamo, se non possiamo dire che è strano. Vabbè, non lo possiamo. E sarebbe la cosa migliore, così lei si rende conto quello che fa. Giusto. Giusto? Così non si lamenta, dico, con me, che sto facendo un servizio. Mi parla con le forze dell'ordine e si va a spiegare come funziona. Sì. Ok? Ok, in tutto questo, io non so nemmeno se c'è il diritto. Anche se avessi più il caso, non so nemmeno se c'è il diritto di controllarlo. Vabbè. Vabbè, non è il problema. Quale è il problema? Allora. Scusa. Allora, stiamo qua. Andiamo qua. Buona, buona, buona. Vabbè, non so se ancora ho capito.